Andrea Giustini è stata ancora una volta una straordinaria occasione di festa, di amicizia ma di solidarietà soprattutto perché Queridagna con il suo gran gala benefico da tanti anni, ormai 31 per la precisione, vuole dedicare questo momento in cui tutti i suoi dipendenti, gli amici, i partner, i fornitori si ritrovano ma si ritrovano all'insegna di obiettivi davvero solidali. Sì, come al solito cerchiamo di festeggiare al meglio il Natale, questo è il nono anno di questo evento benefico, è già un risultato molto importante, sono nove anni che raccogliamo fondi, tutto è iniziato per gioco, per scherzo, per un fatto drammatico che è avvenuto in Liguria nel 2011, quindi subito dopo l'alluvione abbiamo deciso di cominciare a raccogliere soldi dai nostri fornitori e dai nostri dipendenti e piano piano siamo arrivati qui. Siamo ritornati all'acquario dopo qualche anno, l'anno scorso siamo stati a Savona, quest'anno siamo tornati a Genova, siamo contenti di essere all'acquario che è il più grande centro d'attrazione genovese e sono orgoglioso di dire che come al solito Queridagna riesce a stupire e stupirmi, che l'anno scorso avevamo già raggiunto un risultato straordinario, quest'anno l'abbiamo superata, abbiamo raccolto quasi 300 mila euro che andranno tutti in beneficenza e tutte iniziative che ci tengo a dirlo gestiamo, controlliamo direttamente, quindi dalla posa della prima pietra alla realizzazione finale, siamo ormai da 5, questo è il quinto anno, partner della fondazione Francesca Rava che ci segue con molta attenzione, ci suggerisce le iniziative e gestisce anche le iniziative che le suggeriamo noi. Quindi credo che il miglior augurio di Natale non potevamo farci, è stata una serata meravigliosa, è stata bellissima, il popolo di Ecoridiani ha risposto come sempre, siamo più di 800 persone, credo che per Genova sia un orgoglio avere un'azienda eccellente come la nostra e finché potrò cercherò di tenere vivo questo momento e tutta questa solidarietà. La partecipazione delle massime autorità dal governatore Totti al sindaco Bucci, il sindaco di Arenzano Gambino, Arenzano che è insomma la casa di Ecoridania ma anche personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport, è davvero ormai un abbraccio globale quello che Ecoridania riesce a portare a tante associazioni a cui ogni anno da linfa vitale e poi ogni anno con progetti particolari. L'anno scorso la tragedia del ponte e quindi le borse di studio agli orfani di chi insomma sul Ponte Morandi ha perso la vita, ha perso tutto, quest'anno un progetto molto bello legato al Gaslini. Sì, quest'anno oltre che continuare nel mantenimento di questi ragazzi agli studi purtroppo orfani del Ponte Morandi abbiamo conosciuto questa associazione che si chiama Tutti per Atta, è un'associazione di Arenzano che nasce anche questo da una bruttissima disgrazia, che si occupa dei bambini ricoverati al Gaslini e che subiscono cure oncologiche e che spesso, come tante volte succede, non hanno la possibilità di avere una casa dove passare i periodi fra un ciclo di chemioterapia e l'altro. Allora, insieme all'associazione abbiamo deciso di creare una sorta di Airbnb, si dice oggi così modernamente, dove queste famiglie potranno vivere serenamente, dove avranno tutto il supporto e tutta l'assistenza possibile. Abbiamo coinvolto stabilimenti balneari, golf club, palestre, tutti con Atta veramente, noi non facciamo altro che pagare le spese generali, quindi gli affitti, la manutenzione degli stabili, la realizzazione degli stabili, quindi siamo molto orgogliosi. Altra cosa che facciamo sempre con loro dentro il Gaslini è la costruzione di una lavanderia. Sembra banale, ma per le malattie oncologiche e i parenti dei bambini che subiscono cure oncologiche è indispensabile l'igiene. Quindi c'è bisogno di una lavanderia, abbiamo preso un po' di soldi e abbiamo deciso di costruire una lavanderia. Abbiamo già avuto il consenso da parte del Gaslini e ci ha già dato un'area a disposizione, quindi nei prossimi mesi partiranno i lavori e speriamo, come sempre, entro metà anno spero, comunque nell'anno 2020, che questa iniziativa parta e dia questo servizio che oggi a Gaslini non c'è.